Ciao a tutti ragazzi, andiamo al mio canale, sono Shana Catu e oggi andiamo a fare il continuo del gioco Love Story scusate che adesso sto giocando perché non tutti i giorni pubblico due video sempre al mio canale perché ho tante cose da fare sto facendo anche corsi di teatro e tutto quindi è un buon macello però ho trattato tempo di registrare almeno questa puntata qui così almeno usciano dei video, almeno, per questa settimana qui e niente, comincio così l'episodio perché un attimo ho avuto problemi col gioco non mi si apriva, adesso sto qui proprio al capitolo 8 ecco sto qui quindi niente, sto continuando questa serie e adesso vediamo come va a finire Sposa su misura, capitolo 8, le campane della chiesa finitela così, vediamo come va a finire incroci le braccia vissando Max e Aiden che era successo? che non mi ricordo più niente ti rendi conto della spavento che mi hai fatto pendere Max? ah è vero sì, lui stava male mi sembra, il fratello, chi che cazzo era il fratello mi sembra perché mi hai fatto credere che fosse successo una cosa a mamma? ah la mamma stava male, non mi ricordo più niente, scusate ragazzi beh in realtà ho solo detto che si trattava della mamma non è colpa mia se tu pensi subito al peggio oddio, lei è la mamma? ha ragione Shana mamma, non decimettere anche tu? e poi perché non mi hai detto che venivi a trovarmi? ah sì, sono stato io a dirle di non dirtelo ma perché è successo? e perché? è mia mamma non credi che avrei dovuto saperlo? soprattutto se consideriamo il fatto che non sta bene sai che mi preoccupo? proprio per questo non volevo che tu lo sapessi quando mi hai detto che tua madre non stava bene ho contattato subito il mio medico di famiglia abbiamo organizzato tutto per fare in modo che venisse qui a fare la sua terapia proprio così prima però mi ha contattata per chiedermi se andava bene non te l'abbiamo detto perché sapevamo che non avresti accettato l'offerto di Aiden cosa? no vabbè davvero? eh non lo so che rispondere la verità prima o poi viene sempre fuori diciamo questa perché credi che adesso voglia accettare il tuo aiuto? io non volevo dirti niente finché non avrebbe finito la terapia ma tuo fratello l'ha scoperto e ti ha chiamato subito ha fatto bene non voglio essere in debito con te Aiden stai già facendo troppo per me credo di potermi prendere cura di mia madre anche da sola Aiden sembra offeso è evidente che Max si sente a disagio dai Shana voleva solo aiutarti non arrabbiarti con lui a volte puoi anche lasciarti aiutare dagli altri sai eh non lo so non fa niente non ne ha bisogno forse per ora per me è un periodo un po' duro un po' duro sì ma ce la stiamo mettendo tutta non voglio che gli altri si facciano carico dei miei problemi sono capace da sola a diastirmeli Aiden esce dalla stanza senza dire una parola ti fermi a metà frase non avrei appena chiamato il mio futuro genero altri spero davvero ma è possibile quel poveretto ha fatto tutto quello che poteva Shana sei stata proprio dura ti ama è normale che cerchi di aiutarti mi ama? non mi ama come faccio a dirgli che è solo una farsa non posso accettare il suo aiuto Shana sai che emozione c'era nella sua voce quando mi ha chiamata per telefono? si è preoccupato di tutto dai biglietti al mio arrivo qui voleva solo che stessi meglio almeno per riuscire a partecipare al vostro matrimonio come? perché sei così sconvolta? ci si sposa una volta sola nella vita lo sto dando il massimo perché sia una giornata indimenticabile dovresti andare da lui e chiedergli scusa Shana pure merita la tua riconoscenza di certo non è che ti arrabbi con lui Max praticamente ti spinge nell'altra stanza seguito dalla voce di mamma non tornare qui senza il mio genero oddio che palle guarda entri e vedi Aiden seduto su una sedia su una sedia come ho detto su una sedia il suo viso è praticamente senza espressione e il suo atteggiamento è chiuso e riservato poverino che faccia ti siedi accanto a lui e ti mordi il labbro nervosamente è chiaramente turbato per le cose che hai detto che me lo sto dicendo a me stessa? che me lo sto dicendo alla sola? che hai detto? vabbè dovrei non c'ho diamanti sicuramente quindi farò dirgli di non eh? oddio brutta cosa dirgli di non cercare più di aiutarmi e per forza non ho altre non ho solamente i diamanti anche se mi sono espressa male le cose che ho detto le penso davvero non voglio aiuto di nessuno soprattutto quando si tratta di problemi di famiglia va bene capisco è stata colpa mia ora mi sento un pochino in colpa non avrei dovuto far niente senza prima parlarne con te proprio così scusa sono stata dura ti ringrazio davvero tanto però Aiden ti prego cerca di trattenerti nel nei termini in futuro cioè a me lo dai ho chiesto scusa e anche l'ho ringraziato anche se ho detto così senza ok se è quello che vuoi credo che sia la cosa migliore deve esserci un confine ben chiaro in una relazione non vera un confine che non va a te passato ah sì prima che mi dimentichi abbiamo la data nel matrimonio eeeh oddio di già credo sia meglio farlo prima che la mia famiglia inizi a aspettare qualcosa ehm hai ragione quindi quando? tra una settimana cavolo e oggi mi tassurisco da te sta succedendo tutto così in fretta sì è vero ma non mi dispiace sto bene con te eeeh mi fa piacere mi fa piacere? ho bisogno di tempo per abituarmi alla cosa sono sicuro che ti abituerei presto a tutto spero bene allora devo tornare in ufficio e finire un paio di cose puoi essere qui con tua mamma se vuoi mi passo a prendere quando torno a casa le tue cose sono già da me ottimo piano ci vediamo si alza e ti dà un bacio sulla guancia prima di andarsene ah meno male sulla guancia i giorni seguenti passano in un attimo in un attimo perché sei molto occupata con il trasloco da Eden le cose da comprare per il matrimonio e molti incarichi che hai lavorato e che devi finire prima del fine settimana oddio vaffanculo la sapicità mi ha fatto un paurire mi ha fatto ok togliamola subito ok è il giorno prima del matrimonio mamma mia di già e tu decidi di metterti qualcosa di carino per attirare su di te le persone positive possibili è la tua stima che ti serve oddio c'ho solo uno ho paura di vedere cosa mi devo mettere qua vabbè e non è tantissimo bello però dai pensavo anche peggio quella più bella era questa qui la più bella però ormai dai ci siamo così invece di mettermi un buon invece di mettermi il buon umore questo avrà l'effetto contrario e vabbè no non posso ma che importa come sono vestita appunto dai Eden ti guarda accigliato perché fate colazione che vestito è quello guarda che l'amore è cieco quindi abitosi eh non ho capito per favore non uscire così o la gente inizierà a scappare io mi vesto come cazzo mi pare cioè non mi devi rompere i coglioni hai capito non so se stai da solo va bene ma dai è così brutto no è solo un po' strano e anche tu lo sai quindi siamo pari comunque più passo ogni giorno più tu sembri stanca ehm dov'hai ma dov'hai dirmi una cosa così ma dov'hai dirmi una cosa così che vuol dire ma dov'hai dirmi una cosa così ti ho detto di prenderti una pausa del lavoro in questi giorni perché non mi ascolti ho appena iniziato a lavorare non voglio prendere subito dei giorni di ferie grazie a Dio è arrivato il fine settimana altrimenti sareste andata in ufficio anche il giorno del nostro matrimonio e chi lo sa fa ridere ti metti a ridere perché vedi i suoi occhi spalancarsi alla tua risposta sto scherzando lascia che ti aiuti allora posso aiutarti con il resto delle commissioni no non serve ho finito anche quelle mi ha aiutata Ruby ah quindi non hai niente in programma oggi giusto si perché non molta dai allora siamo qui e divertiamoci un po' in che senso se la nostra piccola riunione come abbiamo ancora un sacco di cose da fare e dobbiamo vederci con molte persone credo che non ci siano cose più importanti di noi due che passiamo un po' di tempo ma noi due siamo fintamente fidanzati fintamente insieme in pace prima di sposarci ma che cazzo forse hai ragione è da un po' che non stiamo insieme per bene ma che se ne frega ma non posso annullare gli appuntamenti che ho oggi cosa faccio? no condiamo quei programmi a parte non potevo fare un cazzo quindi scusami Aiden ma non posso ho degli appuntamenti molto importanti oggi niente allora dai finisci le cose che devi finire io ti aspetto grazie torni a casa è già tardi e sei molto stanca per tutte le corse che hai dovuto fare in giro per la città ok qualche istante dopo senti la voce di Aiden per venire dal bagno della cama da letto Shana puoi rispondere al mio telefono per favore non smetto di più di suonare oh sarà sotto la doccia certo Aiden solo un secondo andri in camera sua e trovi il telefono sul comodino e Nathan di che cazzo era Nathan mi ricordo più rispondiamo ah questo qua ok oh ehi Nathan sono Shana ehi Nathan sta facendo la doccia ok perfetto puoi aiutarmi anche tu di che colore volete che siano le decorazioni domani o blu o rosa pastello fantastico grazie buonanotte ok ok solo per questo mi hai chiamato ok ti metti il telefono sul comodino ma noti qualcosa che luccica capisci che si tratta di un anello è un anello qualunque ma un anello con sopra un diamante di grandi dimensioni che bello lo voglio io è bellissimo lo prendi in mano incuriosita e leggi l'incisione A e L insieme per sempre A e L? sembra un anello di finanziamento Aiden me ne ha già dato uno di chi è allora? forse A sta per Aiden ma chi è L allora? beh senti la porta aprire e le appoggi velocemente l'anello sul comodino Aiden esce dal bagno con un solo asciugamano legato attorno alla vita eh ok hai un bel tartaruga petto eh stai messo bene dai i tuoi occhi scivano sul suo corpo catturando tutto ciò che offre decurtisci il nodo che hai in gola guardandolo guardando le gocce d'acqua che scendendogli dai capelli scivano sul petto e poi scompaiono sotto l'asciugamano ti piace quello che vedi? eh senti non ti montare la testa però eh diciamo sì vediamo cosa succede sì mamma mia cerca di ricomporti dai mi stavo scherzando al final perché non posso nemmeno ammirare il mio fidanzato scuota la testa ridendo comunque chi era? è Nathan il tuo sguardo cade di nuovo sull'anello ah ok pensavo un altro un altro sguardo cioè pensavo un'altra cosa dove cadeva lo sguardo ok il tuo sguardo cade di nuovo sull'anello e ti torna in mente l'incisione che hai appena letto Eden si accorge che stai guardando l'anello e la mette velocemente dentro il cassetto perché? quindi chi ha detto che era? Nathan è così evidente cerca di cambiare argomento e io ho riparato l'anello purtroppo che non c'ho lascia perdere l'anello ok per forza ah si ti cercava Nathan quell'anello non deve interessarmi Eden mi avrebbe sicuramente detto tutto se si fosse trattato di qualcosa di importante bene grazie allora lo richiamo non posso credere che stia succedendo davvero parlamene dai Shara inizia a prepararti o rischi di fare tardi sono molto nervosa mamma tutto normale tesoro cerca solo di fare un respiro profondo e calmati vieni Ruby lasciamone un po' di spazio grazie la penso molto non c'è problema chiamala se hai bisogno Ruby e tua mamma escono escono e tu continui nevosamente a girare avanti e indietro per la tua stanza non l'ha detto nessuno ma la cosa ma la cosa che mi preoccupa di più è quello che è quello che penserà la gente quando mi vedranno andare verso l'altare senza papà sicuramente verremo giudicate io e mamma nessuno sa di quanto sia stato cretino mio padre lasciare la sua famiglia per un'altra donna avranno tutti questo per giudizio di sicuro ma che se ne frega dovrei ecco questo solo camminare a testa alta senza curarmi di niente o di nessuno si non dovrebbe preoccuparmi sono fiera di sono fiera di te cioè mi sto dicendolo solo ok la presenza e l'assenza di mio padre non è una non è una cosa che mi definisce devo solo ignorare chiunque avrà il coraggio di nominarlo apri l'armadio per prendere il tuo esiduo a sposa spero che il vestito almeno sia da che ce l'indosso che sennò se devo prendere il vestito di merda per sposarmi no ma resti sconvolta da quello che vedi che succede nooo ma che cazzo è successo c'è anche un bigliettino c'è scritto spero che ti piaccia il mio regalo cara ma no ma chi è non puoi lasciarmi così ma chi è sta stronza vabbè comunque il video finisce qui siamo un po' sconvolta ok dai spero che il video vi sia piaciuto e se il video vi piacerebbe se vi piace e come adesso se volete sapere cosa ne pensate quindi vedete mi raccomando e se non siete conoscritti il mio canale iscrivetevi e attivate la commenta per non perdermi nulla noi ci vediamo allora a un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao